Saluti ragazzi, sono Mattex e vi do venuto qui in questo nuovo video, questo oggi siamo qui tornati con la nostra canona, con la Fiorentina Andremo ad affrontare le nostre canoniche, tre partite in mezzo però, ci sarà quella contro l'Arsenal Prima di pensare all'Europa League, pensiamo al Palermo, sarà una partita assolutamente da vincere, assolutamente da portare a casa Ci saranno tre punti per confermarci sempre di più in zona Champions League, ci serve assolutamente quel posto e vogliamo assolutamente puntare alla Champions League Come sempre abbiamo il miglior attacco con 64 gol fatti, uno score davvero pazzesco, stiamo facendo molto molto bene Inquadrati un po' di nostri giocatori di Fiorentina, c'è anche Sturaro che ha fatto molto bene nello scorso episodio Questa è la formazione del Palermo che affrontiamo quest'oggi, c'è Brignoli in porta, quindi facciamo attenzione sui calci d'angoli E per il resto, Nestorowski davanti, ce l'ho faso dietro, Ward, Rodriguez comunque, è una bella squadra per essere una squadra che sta per retrocedere, è una bella bella squadra Chiesa al cross in mezzo, la palla arriva lui, ma non riescono a sfruttare al meglio questo calcio d'angolo Feico, Bakayoko, prova centralmente per Veretout, attenzione, Sturaro! Servito, molto bene, da Jordan Veretout, 1-0 a Fiorentina e ci portiamo subito in vantaggio Che gol, che gran gol di Sturaro, Sturaro sta facendo molto molto bene, si è un po' ripreso da quel periodo un pochino in ombra All'inizio ha fatto molto bene, poi si è un pochino spento e adesso sta tornando Enesimo gol per lui, terzo in Serie A per Sturaro quest'anno con noi, gran gol Veretout, attenzione Allarga per Chiesa, servito, Chiesa, può saltare due uomini con tempo ronamente, ci prova, mi viene fermato Però dalla difesa al palermo, attenzione, Chiesa, Chiesa, recupera il palo nei cross in mezzo Bellerra! Prima sul palo e poi in porta, 2-0 Fiorentina che raddoppia quando siamo al 33esimo, regia che non ci fa rivedere gol Ci penserò poi io a fine partita, 2-0 Dalla bandierina al cross in mezzo per Bellucci Appoggia Ward Ward, attenzione, perché viene recuperato da Cialanoglu Cialanoglu serve in profondità Chiesa Chiesa, attenzione, tutti contro Chiesa Chiesa cerca un uomo libero, trova Ben Yedder, Ben Yedder, l'autore del 2-0 Ben Yedder, prova a saltare l'uomo La passerai tu, il pallonetto Per Chiesa! Mamma mia, come gioca la nostra Fiorentina 3-0 La partita chiusa, non possiamo mai dirlo, mancano 20 minuti alla fine della gara E qui Chiesa fa anche l'inchino La sua maglietta numero 25 che tra l'altro abbiamo anche noi Vediamo qui, Ben Yedder, vere tu Perfetto, il pallone per Chiesa Forse uno dei nostri gol più belli A livello anche di azione Tra l'altro quest'oggi sono con la cravatta Quindi un allenatore come si deve 3-0, mamma mia Bacaioco Piccini Cerca ancora uno spunto la Fiorentina Sturaro però viene fermato Dalla difesa del Palermo Attenzione perché Sturaro va giù L'abito però non fischia Fischia invece la fine della gara 3-0 Un Palermo che soffre E la Fiorentina si fa sentire molto molto Si sente anche il miglior attacco Questo c'è da dire Stiamo facendo molto bene Il Palermo rimane un pochino mareggiato Anche perché è in zona di retrocessione Quindi sta rischiando parecchio Però Grande vittoria Grande vittoria Sono 3 punti che portiamo a casa 3 punti che portiamo alla nostra corsa Alla Champions League Tra l'altro vi faccio rivedere il gol Casomai lo foste persi un pochino Vi chiese Recupera il pole Nella corsa in mezzo Per Ben Yedder Che prima colpisce il palo La pala che va in rete Qui ottimo però Il recupero di Federico Chiesa Ecco qui Lo stacco di testa Di Ben Yedder Un pochino Alla Alla Ronaldo Se me lo concedete E Questo Fa Fa grande un'ora a Ben Yedder Anche perché Ben Yedder È partito male Partito molto male con la nostra Fiorentina Non Non faceva bene Giocava proprio male Poi ha iniziato a far bene Alcuni di voi non l'hanno apprezzato E Io ho provato comunque a rimandarlo in campo ogni tanto Adesso è un periodo che Ken sta facendo molto molto bene Infatti Probabilmente poi inizierà a giocare anche i titoli A Rui Però volevo far tornare sul campo Ben Yedder E In Europa League Sta prendendo piede Simeone Perché comunque stiamo affrontando tutte squadre molto molto fisiche Quindi contro l'Arsenal Ci andrà Sicuramente Il ciolito Simeone Ciolito che tra l'altro ci ha portato In In questi quarti di finale La Fonte ringrazia per il posto che gli stiamo concedendo in squadra Reso conto finale su Marco Salonso E Potremmo farci un pensierino Tra l'altro Reso conti anche A breve Tra Filipe E Rui E E altri giocatori in punta in scadenza Qua abbiamo C'è anche Alilovic Che non sarebbe male C'è Di Francesco C'è Mi Che ogni tanto fa bene C'è Marcano Però Tra l'altro Nella ricerca ho messo di trovarmi I giocatori in scadenza Non me ne sta trovando mezzo Quindi Pazienza Tra l'altro Conferenza stampa Io direi di far silenzio stampa Vediamo Vediamo come andrà Perché non Non voglio Premiare o motivare la squadra Inutilmente Kowalski Che giocatorino Io direi di promuoverlo Vale già Circa 2 milioni Direi comunque di promuoverlo Abbiamo anche questo Quanguerra E Tra l'altro Con una primavera così Sapete cosa vi dico Io penserei quasi di mandare via Pezzella Quanto meno provare a metterlo Sul Sul mercato Perché Tra l'altro Questo è Pezzella Cioè scusate Kowalski Pardon Mi ero un attimo Incantato Kowalski Tra l'altro Dovremmo poi cambiare Il numero di maglietta Pezzella Lo metterei sul mercato E Comunque come difensori Eremo Kerr Rugani E Abbiamo anche Romagna Che sta Sta comunque facendo bene Abbiamo Milenkovic Che sta facendo molto molto bene Quindi Di giocatori ne avremmo Questo Questo si E Tra l'altro Vi faccio un piccolo Piccolissimo Spoiler Per una cosa che vorrei fare il prossimo anno Siccome Alcuni Hanno un po' criticato La scelta di Hazard Per quanto sia comunque stata condivisa da molti altri Perché avevo fatto il sondaggio E E parecchi Avano votato di sì Però stavo quasi pensato In una cosa E se facessimo uno scambio Hazard Salah Il prossimo anno È un'idea che mi sta Mi sta Prendendo un po' la testa Quindi Fatemi sapere qui sotto Con un commento Io prima di mettere il sondaggio Aspetto Aspetto qualche video Aspetto che arrivi Hazard Aspetto che Devi dare un pochino di cose Per iniziate a farmi sapere voi Sarebbe Sarebbe davvero bello Perché Faremo ritornare a Firenze Salah Dove praticamente esploso E E sarebbe molto molto bello Vorrei appunto Provare questa cosa di Un po' farla un pochino più realistica E un pochino di questi ritorni A Firenze In quel caso Andremo a spostare Neresh Sulla fascia sinistra Tenendo Neresh e Felix Sulla sinistra E sulla destra Chiesa E appunto Salah Fatemi sapere voi qui sotto Con un commento Intanto Pezzer l'abbiamo messo sul mercato La formazione L'avete vista Qui si tratta di Un percorso Di un percorso che stiamo facendo Con questa Fiorentina Con questa maglia Viola Un percorso Davvero molto bello Un percorso che sta portando Questa squadra A sognare un pochino L'impossibile Un po' quel trofeo Che tutti Vogliono vincere Quel trofeo Che tanto tanto Ambito In Europa Benvenuti A Fiorentina Arsenal Una gara Importantissima Per entrambe le squadre Quarti di finale D'Europa League Siamo la Sede Artemio Franchi Questo E Fiorentina Arsenal Una Fiorentina che sta cercando Assolutamente La vittoria Cerca questa vittoria Per portarsi comunque In un buon vantaggio Al ritorno Bisogna fare attenzione A non subire gol Però perché l'Arsenal È una squadra Molto molto forte Soprattutto in casa Aubameyang E Simeone I giocatori da seguire Quest'oggi Un duello un pochino A distanza Tra questi due attaccanti In quadrato Proprio il Ciolito Il Ciolito che ci ha portato qua Ci ha portato qua Con un colpo di testa Con un gol Così Di sfuggita Ci ha portato in vantaggio Contro Contro Borussia Mönchengladbach Sarà una partita Tostissima Questo Questo lo da dire Conoscete l'Arsenal Conoscete anche il mio Arsenal Se l'avete ancora fatto Vi lascio La scheda Con La mia squadra Dell'Arsenal Una squadra pazzesca Vi abbiamo portato Davvero tantissimo Tra l'altro Uscirà poi anche Il terzo episodio Ma tra due settimane Perché questo lunedì Probabilmente Uscirà La top 5 Dei gol Il quarto episodio Il secondo Su FIFA 19 Ma non perdendoci In chiacchiere Fiorentina-Arsenal Sarà una partita Davvero tosta Questa La formazione La nostra Fiorentina Con Areola In porta A difendere La porta Previo di Areola Ci saranno Rugani e Keller La fascia Ci sono Pezzella e Tet Centrocampo composto Da Ramsey Benassi e Baselli Attacco formato Da Felix Simeone E Neres Neres Tra l'altro Diffidato E Ramsey Lex di turno Lex molto importante Perché ha fatto Molto molto bene All'Arsenal Adesso vediamo La formazione Proprio dei Gunners Con Lenio in porta Socrates Cosielni Roberto Bertrand In difesa Torreira Orar Herman Perez Ozil A centrocampo Con l'attacco Più che confermato Obama Young Da solo Alla inizia la gara Con Keller Che appoggia Sulla fascia A Kenny Tet Kenny Tet Comunque si è molto Molto comportato Bene in queste In queste gare In questa stagione Nella scorso campionato Ha fatto un po' Così così Ramsey Prova ad allargare Per qualcuno Ma attenzione Perché Nera Ci finisce in fuori gioco Benassi Ancora la palla A Ramsey Il nostro numero 8 L'ex numero 8 Proprio della Arsenal Perdono Benassi Leno para Primo tiro in porta Primo tiro in porta Comunque ci facciamo sentire La Fiorentina Che prova Assolutamente Un gol Adesso però Attenzione all'Arsenal Che prova di partire Con Obama Young Obama Young Benassi Cerca di fermarlo Non ci riesce Obama Young Lo salta Molto bene Ozil Ozil Attenzione Torreira 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 Salta Rugani Torreira 1-0 Arsenal Al settimo minuto Passano i vantaggi Gunners Fuori casa Quindi un gol molto molto importante per loro E tra l'altro Avevamo giusto detto Di non subire gol Di cercare di non prendere gol Ed eccolo qua Torreira L'ex L'ex Serie A L'ex Sampdoria L'ex Pescara Fatto parecchio bene Qui in Italia E all'Arsenal Sta esplodendo All'Arsenal È stato preso un pochino Come Giocatore Beniamino Secondo gol in Europa League Per lui In questa Europa League Nere C'è il lancio in profondità Attenzione Proprio per Nere C'è il lancio di Kenny Simeone Ancora il ciolito 1-1 Tra l'altro rimane un attimino a terra Ma è tutta una finta Per andare poi a esultare Con Ramsey La palla di Tett Per Nere Crosso in mezzo al volo Simeone Coppo di testa E gol Mamma mia Mamma mia Il ciolito Secondo gol in Europa League Tra l'altro un altro gol Fondamentale Che ci permette di Pareggiare i conti 1-1 All'altemio Franchi Herman Attenzione La palla è sbagliata Rugani Areola E poi Aubameyang Tira su Kerrer La palla finisce In calcio d'angolo Herman Dalla bandierina Al cross In mezzo Per Cosielni Neresh Cerca di intervenire Baselli La palla torna Herman Herman Perez Osile prova Un contrasto su Neresh Ma lo vince Neresh Cerca di ripartire la Fiorentina Benassi Kenny Kenny cerca un uomo Kenny attenzione Aspetta Neresh Neresh da solo Neresh Neresh Può fare tutto lui Neresh 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 Col mancino 2-1 2-1 La Fiorentina si porta in vantaggio Attenzione perché È un vantaggio Che vale molto Poi l'Arsenal Può comunque fare un gol E passare A ritorno Però È un vantaggio Che ci fa sentire Un vantaggio Moralmente Molto importante Neresh Controlla molto molto bene Il pallone Poi finisce In area E col mancino Lex Ajax Porta in vantaggio La Fiorentina Secondo gol Anche per lui In questa edizione Di Europa League Osilla Baselli Simeone Prova a ripartire La Fiorentina Attenzione Sulla sinistra C'è tutto solo Joe Felix La palla è proprio per lui Simeone lo serve Attenzione Joe Felix Prova a saltare Sergio Roberto Ci riesce Joe Felix Salta anche Urar Joe Felix Salta anche Cosini Salta Torreira La palla è per Ramsey Che però Perde la testa E fa un fallaccio Viene anche ammonito Lex Arsenal Che non riesce A sfruttare L'azione di Joe Felix Preferisce Evitare un contropiede Fallo di Ramsey Kenny Simeone La palla per lui È l'autore dell'1-0 Attenzione Felix Sul palo La Fiorentina Ha avuto l'occasione Del 3-1 Un piattone Quasi perfetto Al 99% Militarian Urarra La palla per Welbeck Attenzione Welbeck Da solo Welbeck Welbeck Areola Areola E tiene il pallone Proprio là Ha battuto da parte Ma Tiene il pallone Fermo Nelle sue mani Rinvia La palla è per Ken Che appoggia A Baselli Maravitor dice Che la partita Finisce qui Triplice fischio finale E battiamo l'Arsenal Fermi tutti Fermi 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 Non facciamo già Ma abbiamo battuto l'Arsenal Siamo tornati nel nostro menu Stavo un attimo riflettendo Mi ero un attimo perso Nei miei meandri Della mente Ma battiamo l'Arsenal E facciamo un gran risultato L'Arsenal Perché con 1-0 Potrebbe passare tranquillamente Però Sempre meglio andare Che in vantaggio Che in svantaggio Questa è la formazione Con cui andremo ad affrontare Il Torino Con Bacayoko Veretù E Sturaro Il centrocampo Ormai consolidato La nostra Serie A Tra l'altro Non escludo una partenza Di Budeboos A fine stagione Quindi perché Non è piaciuto molto A voi E Diciamo che Non sta brillando Così tanto Come avrei voluto io E Siccome il prossimo anno Vogliamo una squadra Da Champions League Una squadra per vincere Tutto Perché il prossimo anno Vorrei puntare seriamente Al triplete Ci sarò qualcosa in più Ci sarò qualcosa in più E Spinazzola Lukaku Pezzella Budeboos Potrebbero essere tutti giocatori Che andrebbero a finanziare Un progetto triplete Diciamola così Questa è la classifica Attenzione perché siamo a tre punti Soli Dal Milan Quindi Facciamo attenzione Facciamo attenzione Perché Potremmo quasi Rischiare di Di fare Grande risultato Anche quest'anno Cagliari che vince sul Milan Palermo Palermo tra l'altro Si sta più o meno salvando Però A meno tre dal Milan Però Dopo la vittoria contro L'Arsenal In Europa League Dopo la vittoria contro Il Palermo In campionato Ci apprestiamo Ad affrontare A Torino Il Torino Torino che sta facendo Molto molto bene Questa stagione Sta cercando un posto In Europa League E noi invece lo stiamo cercando In Champions League Facciamo però attenzione Ad un Milan Che piano 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 Sta commettendo Piccoli piccoli Passi falsi Quindi mi raccomando Facciamo attenzione Perché potrebbe Davvero succedere Il miracolo Tanto inquadrato L'Inter Che sta facendo Maluccio Questa stagione Può ancora magari Puntare a un posticino In Europa League Però deve assolutamente Riprendersi Comunque andare Da uno per favorita Alla vittoria del campionato Quindi Deve un pochino Rifarsi Inizia la gara La nostra Fiorentina Cercherà assolutamente I tre punti Per continuare a sognare Ilicic Cioè scusate Lihaic Iago Falchi Dalla bandierina Al cross in mezzo Per Ruiz 1-0 Torino E la prima azione Del Torino Arriva al 76esimo Con il gol Peccato Peccato Perché Al di là che Non è successo Assolutamente nulla In questa partita Sia da parte nostra Che da parte loro Comunque noi qualche tiro Quella l'abbiamo fatto Per loro Il primo Di tutta la gara Qui La Font Va un po' a farfalle Non riesce a prendere il pallone Torino In vantaggio Chiesa Lui dalla bandierina Al cross in mezzo Per Lì Sirgu spazza Kovatsky Attenzione la finta Appoggia Per Ken Ken Moise Ken La palla rimane lì E Bejeder Porta in vantaggio La Fiorentina Cioè Oddio Pardon Porta in parità La nostra Fiorentina Ormai sono troppo abituato Alla nostra Fiorentina Che vince Quindi metto un attimo In pausa al cervello Qui Ci fanno avviare un milione di replay Per il gol di Bejeder Comunque un gran gol Per il gesto con cui l'ha fatto Però porta a vuoto Quindi si poteva tranquillamente fare Da notare ovviamente la prestazione di Ken Che sta facendo sempre meglio E E sta Però Confermandosi un gran giocatore Milik Perde il pallone Sturaro Bejeder Attenzione colpo di tacco Chiesa Chiesa Contro Niang Chiesa Chiesa prova il tiro Sirigo in calcio d'angolo Provitro Fischia il fallo di Niang Fischia il fallo di Niang l'arvitro Attenzione Perché sarà calcio di rigore A sto punto sarà calcio di rigore Per la nostra Fiorentina Vediamo qua Niang E poi va proprio a prendere il piede Va poi a prendere il piede Ken Ci prova lui Dal dischetto Proviamo Ise Ken 2-1 Fiorentina in vantaggio Adesso si Adesso si Grafiorentina in vantaggio Prima di verità Adesso in vantaggio 2-1 Carichi 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 All'ottantasettesimo Rivaltiamo la situazione Dieci minuti dopo Essere passati in svantaggio Passiamo Noi In vantaggio Qui Moise Ken Con la rincorsa Colpo Di destro Ottavo Gol in serie A Per lui Tra l'altro Tutti con noi Sirigo A reinvi la palla Per Milik Un giocatore che Acquirevamo parecchio Interessati Ben Yedder Sostituto Poi di Di Arkadius Milik Chiesa Crossi in mezzo Ancora per Ben Yedder Mi l'ho già visto Tutto il film mentale Con la rovesciata Di Ben Yedder Un arbitro fischio Alla fine E vinciamo noi Vinciamo noi 2-1 Una vittoria sofferta Vittoria molto Molto sofferta Un primo tempo Davvero faticoso E' successo Veramente poco Potuto nel primo tempo Siamo tornati nel nostro menu Anche perché Hanno rifatto vedere un po' I gol in falli Però Non ci interessavano Abbiamo visto tutto Durante Di L'Ais Probabilmente Vi ero lasciato i gol Offerta per Pezzella Offerta per Pezzella Di 17 milioni e 5 Possiamo arrivare Fino a 20 Più o meno Una ventina Lascio a voi La decisione Lascio a voi la decisione Qui in alto a destra Votate sì O no Per la cessione Di Germán Pezzella Un giocatore Che io vorrei vendere Fondamentalmente perché Ha fatto delle cappelle Incredibili Questa stagione Cose davvero Imperdonabili Tra l'altro Non proseguiamo Neanche troppo oltre Così Rimane lì Non scappa Diciamo l'offerta Sale Feico A 72 Molto molto bene E quindi Pezzella Preferirei Cedro Comunque abbiamo Kowalski che sta salendo Romagna poi torna Al presito Potremmo fare L'investimento Di un difensore Diciamo con Gli attributi Mettiamola così Tra l'altro Vado a cambiare La maglietta Kowalski Perché mi sono proprio Dimenticato E facciamo un certo Effetto Vederla giocare Con la 13 Quindi E mettere Tipo la 33 Vediamo la 33 Questi numeri Un po' particolari Mi piacciono da morire E Tra l'altro Potremmo già quasi Puoi fare la formazione Tanto più o meno È la stessa Non è che Di Europa League Dovremmo essere Abbastanza posto Mettiamo Neres Mettiamo Simeone Mettiamo Felix Poi rimettiamo Neres Sulla destra Però Veretù Ramsey E Tra l'altro Vi faccio vedere Poi anche Quelli di Champions League Questa è ancora L'attuale classifica Siamo a 3 punti Sempre dal Milan A più 3 Sulla Roma A più 8 Sulla Juve Tra l'altro Aia La prossima è Fiorentina Milan Il prossimo episodio E Real Barcellona Il prossimo episodio Il prossimo episodio Il prossimo episodio Il prossimo episodio